Buongiorno, sono Cristian Bortignot, sono un geometra da Vedelago in provincia di Treviso. Oggi siamo in questa bellissima località balneare, Tropea. Veniamo da due giorni di corso intenso, fatto di formazione e oggi meritato relax. Abbiamo visto in questi due giorni l'utilizzo dei droni con i vari programmi per il rilievo del costruito. Sono molto entusiasta di aver partecipato e sono molto fiducioso che in futuro sarà l'utilizzo prossimo della nuova tecnologia. Ringrazio tutti e vi lascio con questa bella vista di Tropea. Buona giornata! Grazie a tutti!